In casa Montevarchi si pensa a rafforzare la squadra rosso-blu come ha confermato Gerardo Iannelli questo quello che ci ha dichiarato ai margini della presentazione stamani del board di Futura a Villa Masini Ma certo, i nostri tecnici, il nostro staff sta lavorando insieme a noi dirigenti la rosa è chiaramente da completare, la prima uscita tra l'altro per noi era anche abbastanza prematura perché abbiamo iniziato la preparazione da poco, ha dimostrato solo, ha fatto vedere solo delle qualità di alcuni singoli che sono veramente importanti e bravi, però la rosa è ancora da completare noi speriamo di attrezzare una squadra che ci faccia stare tranquilli anche se avremo grosse difficoltà per il problema di dover giocare la prima parte del campionato fuori dal nostro stadio e quindi speriamo che il pubblico ci segua e speriamo che soprattutto il Covid ci consenta di avere il pubblico negli stati Grazie!